eccoci qua allora buonasera a tutti speriamo che oggi visto anche l'orario e anche l'ospite d'eccezione che abbiamo ci sia anche una bella affluenza di gente allora oggi vediamo ok vedo che c'è già qualcuno connesso quindi come sempre facciamo un attimo un un check per quanto riguarda l'audio sentite vedete bene fate fatemi sapere che così dopo posso proseguire con con la presentazione degli ospiti di oggi vediamo che vedo che ci sono già un po di perfetto ok ci dicono che si vede bene quindi possiamo partire allora oggi parleremo con un ospite d'eccezione di quelle che sono le lesioni traumatiche del ginocchio quindi senza dilenguarci in troppe parole faccio entrare nella nella conversazione il professore adriani ezio che lui è responsabile dell'unità operativa della traumatologia dello sport e della chirurgia del ginocchio del gemelli e della sport clinique mater dei quindi facciamolo subito entrare buonasera 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 a voi è un piacere partecipare a questa sicuramente interessante discussione sul ginocchio è un piacere anche per noi averla averla insieme quindi facciamo entrare anche anche il nostro roberto come state tutto bene tutto molto bene considerando il tempo speriamo il periodo speriamo insomma piano piano di riattivarci ci stiamo ci stiamo riattivando sia al gemelli che la mater dei ancora non è passata la pandemia dobbiamo ricordarcelo però sicuramente siamo un passo avanti bene bene ottimo te roberto tutto ok tutto bene noi non ci vediamo da tanto tempo infatti non ci vediamo e tantomeno ci sentiamo esatto 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 perfetto no tutto alla grande bene allora vedo che ci sono già un po di persone connesse quindi direi che potremmo partire quindi le chiederei eh dottor adriani se ci può fare un po' una una panoramica di quelle che sono le strutture principali più importanti del ginocchio ma guarda il il ginocchio è una delle articolazioni eh più complesse del corpo umano ma è soprattutto visto che noi siamo bipeti quella che ci permette anche di fare dei gesti atletici importanti pensiamo a quello che fa un calciatore un saltatore un usciatore e quindi al di là della vita quotidiana ci permette di avere una performance sportiva e questo avviene non solo per la struttura ossea che è costituita dal femore dalla tibia e dalla rotola ma soprattutto per la complessità di quelle che sono le strutture che permettono di ridurre gli stress sul ginocchio e quindi di permettono di effettuare le rotazioni perché il ginocchio è quello che poi ci fa ruotare pensate che un'articolazione troppo rigida avrebbe la difficoltà di effettuare il gesto atletico e invece un'articolazione troppo lassa eh non ci permetterebbe la stabilità quindi è sempre tra un equilibrio tra stabilità e lassità che si crea quello che poi è l'articolazione vera e propria questo per dire che non esiste solo il crociato anteriore il crociato posteriore che tutti sappiamo e riconosciamo ma esistono delle strutture altrettanto importanti come i menischi e la cartilagine che sono quelle che permettono poi all'articolazione di avere una vita il più a lungo possibile e la vita dell'articolazione finisce lì dove finisce la cartilagine però poi entriamo in un argomento diverso che è quello della sostituzione della cartilagine oggi vorrei rimanere proprio su come si dobbiamo mantenere la funzionalità dell'articolazione sia per lo sportivo sia per la vita quotidiana e soprattutto conservare quello che è un po' il patrimonio più importante della nostra articolazione cioè la cartilagine teniamo presente che tutti noi nasciamo con un patrimonio di questa struttura che poi vedremo essere particolarmente complessa che inevitabilmente si usura nel tempo per età e per genetica su questi due fattori possiamo agire poco mentre invece sui traumi e su quello che è la funzionalità del ginocchio possiamo e dobbiamo agire molto perfetto prima prima di continuare perché anche poi il professore ci farà vedere ci ha preparato per noi anche proprio delle slide quindi sarà una cosa molto interessante e ci tenevo a dirvi che se avete qualsiasi domanda da fare fatecela io comunque le filtrerò e le sottoporrò sia al dottor adriani che anche roberto quindi l'idea anche di questa di questa live è quella di cercare di creare un confronto anche tra diverse figure ok quindi siamo fisioterapisti e ci abbiamo anche un chirurgo con noi oggi quindi qualsiasi cosa noi siamo a disposizione fatela maggiore sarà l'inter l'interazione è sicuramente molto più interessante sarà chiaramente anche la la diretta volevo solo fare questo piccolo escluso quindi domenico se posso interrompere di questo credo sia una cosa fondamentale ed è proprio il bello di ne ho partecipato anche ad altri eventi simili a questi anche le nostre società scientifiche si stanno adeguando la la cosa più importante è avere un'interattività e quindi ben vengano le domande faremo delle degli spunti daremo degli spunti di discussione però sono pronto a rispondere a qualsiasi tipo di domanda perfetto ottimo bene allora vogliamo cominciare con con una breve introduzione prof le posso fare una domanda per quella domanda vai con la domanda siccome noi siamo dei fisioterapisti un po pignoli non ci piace diciamo l'approccio uguale per tutti i tipi di di patologie quindi una riabilitazione standard diciamo che un grande dubbio che c'è per quello che riguarda la letteratura è un po l'approccio riabilitativo ad una lesione del menisco ovviamente non possiamo ipotizzare che una lesione magari di tipo verticale in una zona rossa del menisco possa essere diciamo considerata lo stesso modo di una lesione radiale magari che arrivi nella zona bianca quindi a livello di tempi di guarigione poi della sutura che fa il chirurgo e tipo di carico che noi possiamo somministrare ovviamente dobbiamo abbiamo delle differenze no e quindi quello che mi preme penso ci preme sapere è quando noi possiamo avere un approccio un po più aggressivo verso un tipo di sutura un tipo di lesione e quando invece dobbiamo essere più cauti sia per il carico che per anche per la mobilità del ginocchio ok quindi sia per il carico che per la mobilità articolare certo e prima di far partire la le quattro cinque diapositive che ho preparato volevo fare un breve commento a questo che hai detto credo sia molto corretto voi vi chiamate physio science ma credo che sia molto corretto l'approccio scientifico con l'evidenza noi oggi dobbiamo averlo sia studiando sia confrontandoci i vari specialisti che si occupano di un argomento quindi il riabilitatore deve assolutamente dialogare con il chirurgo nel rispetto di quelle che sono le evidenze scientifiche dopodiché c'è l'esperienza del singolo che può essere indirizzata verso l'una o l'altra scelta come vedrete non esiste ancora una completa verità chi ha seguito in questo periodo la pandemia ha visto bene come la medicina non sia una scienza esatta ma noi dobbiamo arrivarci il più possibile a questa esattezza e solo attraverso il confronto così come facciamo questa sera io credo che si possa arrivare a benessere del paziente quindi se mi fai partire domenico gliele metto subito così una piccola ecco la vedete assolutamente sì sì ok allora sì avete come vi hanno detto io mi occupo da tanti anni di traumatologia dello sport e in particolare della chirurgia del ginocchio quindi ho sviluppato un po tutto quello che è la preparazione e salvare il ginocchio e poi la ricostruzione nella fase più avanzata una delle strutture più importanti proprio per salvare l'articolazione quindi per salvare la cartilagine è la struttura meniscale vedete come la struttura meniscale sia complessa e questa parte nera non so se riuscite a vedere la freccia la parte nera sulla si vede si vede rappresenta la vascularizzazione questa è una famosa diapositiva di arnoschi che ha colorato in un preparato anatomico i vasi e quindi fa vedere come i vasi siano presenti sono nella parte periferica quindi quando roberto diceva una lesione sulla parte murale sulla parte rossa per parte rossa intendiamo la parte vascularizzata e la struttura interna invece è quella che è meno è bianca quindi ha un apporto vascolare ridotto ed è quella che è deputata a ridurre il carico tra il femore che vedete qui in alto e la tibia in basso ma noi abbiamo dato molta importanza in questi ultimi cinque dieci anni ad un'altra parte del menisco che sono le radici cioè dove il menisco si ancora i menischi sono ancorati come se fossero dei legamenti nella parte centrale alla radice posteriore e alla radice anteriore queste sono fondamentali perché quando per usura vengono a ridursi e quindi ad essere estroflesso il menisco all'esterno o per trauma quindi la radice si rompe il menisco pur essendo vitale pur essendo presente all'interno dell'articolazione perde completamente la sua funzione o quantomeno la riduce in maniera sostanziale perché non assorbe più a quello che è il suo compito principale appunto quello di ridurre il carico tra femore e tibia quindi ricordiamoci parte periferica del menisco vascularizzata parte centrale non vascularizzata e le radici questo perché in questo modo possiamo capire quante possono essere le lesioni che possono essere classificate o in base ad un trama quindi come si può rompere un menisco per la classica rotazione o l'accosciata quindi un menisco sano che questa è la condizione ideale un menisco sano che si rompe per un trama perché in questo caso noi andiamo ad agire su possiamo agire su un tessuto buono e quindi possiamo andarlo a riparare la lesione degenerativa invece è la peggiore perché la lesione in cui il menisco viene ad usurarsi piano piano o per età o per un'alterazione ad esempio dell'asse anatomico del ginocchio un ginocchio varo e quindi una volta che questo menisco arrivi ad una rottura abbiamo più difficoltà ovviamente a riparare e poi abbiamo le lesioni che possono essere di vario tipo a seconda della base e della direzione di quello che avviene all'interno della lesione e quindi possiamo avere una lesione di tipo radiale una lesione a flap e una lesione longitudinale questo per dire che noi possiamo distinguere le lesioni in base a quella che è la tipologia anatomica ma quello che a noi preme di più sapere è se la lesione è di tipo traumatico o di tipo degenerativo e soprattutto se quelle lesioni longitudinali si trovano in una zona come diceva roberto in una zona rossa ed una zona bianca questo che cosa condiziona condiziona quello che è l'approccio chirurgico anche se l'approccio chirurgico è radicalmente cambiato negli ultimi 5-10 anni quindi mentre noi un tempo andavamo a riparare soltanto le lesioni nella zona rossa e quindi quelle e le lesioni acute fresche e questo lo facevamo sia a cielo aperto sia in artroscopia quindi sono tanti anni che si ripara il menisco non è una condizione attuale ma sono circa 30 anni che si cerca di salvarlo questo menisco da quando esiste la chirurgia del ginocchio però oggi noi abbiamo degli elementi in più sia di tipo anatomico conoscenze sia abbiamo delle device che ci permettono di andare ad agire e quindi a riparare anche strutture complesse e ci siamo portati avanti siamo andati a riparare anche le radici le attaccando le lesioni radiali alcune lesioni che sono più vicine alla zona bianca facendo questo abbiamo visto che c'è una possibilità comunque di ripararle se vengono rispettati alcuni dettami meccanici e soprattutto se viene rispettata un'adeguata riabilitazione e quindi qui veniamo al punto della domanda e in più che cosa abbiamo fatto abbiamo spinto la nostra chirurgia riparativa proprio a dimostrazione dell'importanza del menisco anche agli over 40 quindi soggetti nei quali un tempo si non ci si pensava e si faceva una menisceptomia perché abbiamo visto che anche gli over 40 hanno la stessa possibilità di guarire se prese in tempo queste lesioni meniscali ultima cosa e questa è un po' la novità che c'è oggi la possibilità di utilizzare nei casi in cui è scarsa la capacità di guarigione quello che viene chiamata orto biologia cioè sostanze che possono essere prelevate dalla cresta dal midollo osseo dal sangue o dal grasso cosiddetti fattori di crescita cellule staminali che ci possono aiutare nella guarigione questo è per dire il concetto che viene sempre di più stressato io ne sono un fattore da anni salviamo il menisco quindi prima di togliere un pezzettino di menisco indubbiamente nella mia chirurgia rutinaria ci penso molte volte detto questo dobbiamo poi comunicare al riabilitatore quello che noi abbiamo fatto in sala operatoria quindi non basta dire ho fatto una sudura zona rossa ma com'era questa lesione se mi ha soddisfatto la mia chirurgia perché a volte uno mette un punto ne mette due ben tenuta altre volte trova un tessuto degenerato che quindi ha più scarse e necessita magari ridurre il carico per più tempo quindi è bene sempre avere un colloquio con il chirurgo e indubbiamente la sutura meniscale soprattutto se avviene in una ricostruzione del crociato anteriore condiziona quello il primo mese di riabilitazione quello che cambia di più è il carico che noi riduciamo per le due tre settimane ma mai in maniera completa ad esempio se io ho una buona sutura io dopo due settimane permetto un carico al 50 per cento perché si è visto che in alcune in alcune situazioni il carico può essere da stimolo anche alla guarigione quello che è un pochino più preoccupante nelle suture un po più al limite come ad esempio quando viene riattaccata la radice meniscale o quando ad esempio c'è un manico di secchio quindi una lesione più abbondante della parte periferica è la flessione quindi bisogna stare attenti nel primo mese a mantenere una flessione che non vada oltre i 90 gradi proprio perché in flessione il menisco viene stressato maggiormente altra cosa e poi magari ne discutiamo quindi carico flessione e un'altra delle caratteristiche importanti è quello di eseguire dei gesti in acqua c'è molto il discorso della riabilitazione in acqua ma bisogna stare attenti che in acqua nel primo mese una lesione una una riparazione meniscale proprio perché il paziente si sente più libero può fare un movimento tipo il movimento della rana ad esempio che a me è capitato che va a stressare molto quello che è la sutura meniscale quindi per ricapitolare il menisco dobbiamo cercare sempre di salvarlo a volte per fare questo noi spingiamo la nostra chirurgia un pochino al limite e quindi dobbiamo ritardare un pochino quello che è la riabilitazione io con questo mi fermerei giusto la grazie mille per per questa spiegazione e infatti mi riattacco un po all'ultimo concetto che che ha detto per farle per porre una domanda che che ci hanno fatto ovvero che adesso vennerà fuori anche in sovraimpressione quando è che lei decide che è il momento di intervenire chirurgicamente cioè qual è il suo criterio per porre l'indicazione per una meniscectomia e o la sutura meniscale e quando arrendersi invece con il trattamento conservativo allora età del paziente anche se abbiamo detto che la spingiamo oggi in un paziente adolescente cerco di fare la sutura quasi sempre anche stressando magari una riparazione di una lesione radiale che la peggiore in un adolescente la faccio per due motivi sia perché la meniscectomia in adolescente darà dei danni sicuramente importanti in un futuro sia perché le capacità di guarigione di un adolescente sono superiori a quelle di un adulto la zona lo abbiamo detto una zona francamente periferica quindi vascolarizzata a da delle garanzie maggiori e quindi stresso la sutura la terza cosa è invece quanto tempo è passato quindi la tempistica quanto tempo è passato dalla lesione perché se e questo sta capitando purtroppo in questo periodo cioè una lesione a febbraio un manico di secchio di un trentenne che è andato a sciare a febbraio e si è ritrovato con il ginocchio gonfio però con la pandemia non è stato né visitato né trattato adesso si ritrova a maggio con una lesione di tre mesi con grosse difficoltà per essere riparato ieri è capitato di fare un intervento di questo genere e ho dovuto togliere il menisco probabilmente se l'avessi operato i primi di marzo l'avrei potuto riparare questo anche per rendere un po' attuale la discussione il menisco e tant'è vero che voi sapete che in questo periodo di pandemia ci sono state delle linee guida per vedere chi dovevamo operare quindi noi ci siamo fermati con la chirurgia normale di elezione che viene chiamata di elezione abbiamo fatto solo il trauma però secondo tutte le linee guida internazionali una lesione meniscale riparabile veniva ed è considerata tuttora una lesione su cui intervenire anche durante questo periodo di pandemia grazie per aver risposto in maniera così esplicativa bene direi che possiamo possiamo proseguire roberto volevi volevi chiedere fare delle domande sul menisco le vogliamo fare in fondo no no io ho una domanda prof una domanda se l'avrei quale tecnica quale tecnica scegli in genere per suturare il menisco perché ho visto che ne sono diverse da da dentro a fuori allora e se possiamo rivedere un attimo la diapositiva si vedono ci sono ecco allora diciamo che le tecniche che possono essere utilizzate sono delle tecniche che sono evolute nel corso degli anni grazie alla messa a disposizione di alcuni device e noi un tempo ripeto ripeto 30 40 anni fa si faceva comunque la sutura a cielo aperto e si andava a suturare quella che è la parte periferica del menisco ora le sutute in out cioè da dentro a fuori sono delle suture che si prestano bene a coprire la parte postero mediale ma ad esempio difficilmente possono essere utilizzate nella parte posterolaterale proprio perché eh ci sono delle strutture nobili posterolaterali che creerebbero delle problematiche e quindi dei rischi maggiori lo sviluppo di questi device che vengono chiamati all inside cioè permettono di passare il punto e il nodo tutto all'interno dell'articolazione senza dover fare fuori uscire dalla cute dalla parte esterna del ginocchio l'ago e quindi poter andare a creare dei danni sulle strutture vascolari e nervose perché teniamo presente che durante il gesto della sutura ci potrebbero essere queste soluzioni e questo ci ha permesso assolutamente di trattare molto bene le lesioni posteriori quindi quelle che sono nella parte posteriore che poi sono la maggioranza del menisco viceversa nella parte anteriore del menisco una sutura che si presta molto bene quella a ot in cioè l'ago viene passato dall'esterno all'interno in questo modo si riesce a perforare il menisco e poi a passare il nodo e a suturarlo con delle tecniche una delle caratteristiche invece delle nuove lesioni voi magari trattando un paziente vi potrete accorgere che c'è una cicatrice posteriore posteromediale che a volte è un pochino fastidiosa come fisioterapisti dovete massaggiarlo un po riabilitarla certe qualche volta può avere un piccolo gemizio perché magari non si chiude bene quello è la cicatrice che viene che noi effettuiamo per l'accesso posteromediale accesso posteromediale viene utilizzato di routine quando facciamo la ricostruzione del cronato posteriore e inoltre viene utilizzata per poter suturare con la tecnica all inside di morganell la rampa cioè la parte dove il menisco si attacca alla capsula posteriore e quindi quando si fa un gesto sulla rampa sulla parte capsulare sul distacco in cui non è rotto il menisco ma il menisco è distaccato dalla capsula come si vede in questa immagine qua questa è la quella lesione quella sutura si tende durante la flessione quindi non bisogna andare a sollecitare il ginocchio in massima flessione quando è stata fatta una sutura della parte posteriore ultimo le radici meniscali radici meniscali si curano un po come il legamento crociato cioè si imbastisce la radice e si fa un piccolo tunnel all'interno della tibia questo tunnel poi all'uscita del tunnel i fili con cui è stata imbastita la radice vengono fissati quindi bisogna avere nel proprio armamentario così come vedremo quando uno si approccia alla ricostruzione del crociato non può fare solo il rotulio solo il semi tendinoso ma li deve fare tutti sta per fare tutti così così anche nel menisco chi fa e vuole fare una sutura meniscale deve assolutamente conoscere tutte le tecniche e questo diciamo che io l'ho imparato maggiormente negli ultimi dieci anni facendo quello che è la estremizzazione della sutura meniscale perché non ne parla mai nessuno ma esiste il trapianto di menisco cioè da cadavere noi trapiantiamo un intero menisco quindi lì bisogna fare tutte le suture dalla radice alla periferia perché non è una lesione del menisco è tutto il menisco che viene trapiantato volevo volevo farle una una domanda riallacciandomi un po che quello che avevo detto prima che è importante proprio come si può dire parlare con il chirurgo per capire un tipo di intervento che è stato fatto e allora visto anche tutte queste differenze anche di tipologia di sutura che ci sono come come può variare la l'approccio che dobbiamo avere noi al paziente soprattutto anche nell'immediato post operatorio a seconda di quelle che sono le diversi le diverse suture cioè queste suture comportano anche delle differenze da un punto di vista di approccio riabilitativo assolutamente allora è chiaro che il colloquio col chirurgo è lui che ti dice fletti io chi mi conosce roberto mi conosce bene sa che io do delle indicazioni dettagliate non dico fisioterapia o massaggi gli dico proprio flessione da 0 a 60 flessione da 0 a 90 carico però non è sempre così anche perché a volte magari un ospedale di corsa quindi è giusto e corretta la tua domanda il carico è un un elemento che stressa molto la parte diciamo nei primi due tre settimane può stressare molto la parte posteriore del menisco così come la flessione oltre 90 gradi se è stato un elemento potrebbe essere dalla entità del distacco quindi non tanto dal tipo di lesione dal tipo di sutura ma dalla entità cioè dalla grandezza se io vado a mettere un puntino sulla capsula uno solo quindi voi per esempio anche capire quanti punti sono stati messi è stato messo solo un punto sulla capsula posteriore significa che quella era una piccola lesione presa all'inizio che può anche essere sollecitata ma si è stato riattaccato un manico di secchio che è la decisione peggiore quindi il manico di secchio è una lesione lungidutinale con il distacco completo da un pezzo di menisco che va nella gola lì sono sta in genere si mettono 3 4 5 punti ed è una lesione più instabile quindi bisogna fare maggiore attenzione però per semplificare l'attenzione è carico e flessione stop a me è capitato ad esempio che un mio paziente operato di trapianto meniscale fosse stato scambiato il trapianto meniscale proprio perché non era stato scritto bene eccetera quindi colpa anche nostra è stato scambiato per una sutura meniscale normale e chiaramente questo paziente dopo tre settimane è stato messo in piscina e si è lussato la lesione quindi un trapianto meniscale ha bisogno di due mesi di attenzione per due motivi il primo che è una ampia lesione una lesione instabile il secondo che abbiamo impiantato all'interno del ginocchio un qualcosa di non vitale perché è un trapianto preso da cadavere quindi a cellulare che ha maggior difficoltà ad integrarsi ok perfetto ottimo sì secondo me infatti questa cosa qua che lei ha detto è una cosa veramente importante che molto spesso viene anche a mancare è proprio il dialogo e io credo che nel bene per il bene esatto è che molto spesso cioè viene non viene non vengono enfatizzate anche queste situazioni proprio di di scambio di informazioni anche proprio nel continuo anche con dei feedback durante con i follow up anche durante le settimane proprio da entrambe le parti molto spesso e quindi tante volte ne viene anche un po meno quella che la la salute del paziente ed è un peccato perché noi siamo proprio quelli che ce l'abbiamo in mano quindi ha detto una cosa secondo me è molto molto importante se posso farle una domanda prima di andare avanti che ce l'hanno nelle lesioni degenerative in pazienti over 40 c'è possibilità che il dolore del paziente sia causato da altre alterazioni e quindi non sia opportuna la chirurgia come vengono discriminate queste due situazioni ma questa è una domanda molto intelligente attuale in quanto non sempre un po il discorso del dente non sempre il dolore la sintomatologia da ricondurre una lesione meniscale anche se il radiologo spesso ti dice che la lesione meniscale c'è ma nell'over 40 la lesione meniscale vista da come così come la vede il radiologo c'è nella stragrande maggioranza dei casi quindi noi dobbiamo sempre andare ad indagare quelle che sono le lesioni delle strutture vicine in particolare della cartilagine dell'osso perché a volte un iniziale sofferenza ossea che potrebbe arrivare anche all'osteonecrosi soprattutto se noi dovessimo approcciare chirurgicamente quel paziente ti dà un dolore anche importante in assenza di una lesione meniscale e una chirurgia potrebbe essere deleteria quindi per essere pratici quando è che noi dobbiamo approcciare una chirurgia dell'over 40 over 50 innanzitutto credo oggi siano tutti d'accordo che vada approcciata sempre con molta attenzione più del giovane in quanto spesso come dicevamo prima ci possono essere delle complicanze se noi andiamo a togliere un menisco che era solo degenerato ma dobbiamo ritornare al discorso iniziale cioè la parte meccanica una lesione degenerativa che meccanicamente crei una infiammazione perché c'è un flap quindi c'è un pezzettino che si muove è instabile o perché c'è una lesione di tipo manico di secchio per cui si blocca l'articolazione lì bisogna intervenire e questo è quello che si fa in maniera standard una attenzione maggiore però negli ultimi anni c'è in quelle lesioni anche della radice classico è il cinquantenne che si accoscia in genere sono più le donne che fanno un'accosciata magari per raccogliere qualcosa e sentono proprio uno scatto lo riferiscono esattamente un dolore acuto e una sensazione di scatto all'interno del ginocchio quelle sono spesso delle lesioni della radice che andrebbe forse andrebbero indagate con più attenzione e a mio avviso io ultimamente cerco di ripararle possono essere riparate quindi operare solo quelli che hanno una lesione meniscale reale o perché hanno una lesione meniscale meccanicamente invalidante o perché hanno una lesione meniscale che è possibile riparare ok bene grazie grazie mille per la risposta a questo punto le volevo chiedere visto che ci siamo no nel momento in cui diciamo il nostro menisco non si sostiene più ok quindi oppure il trauma è totalmente forte che ha colpito menisco e cartilagine una volta che la nostra la cartilagine viene viene diciamo viene diventa vittima di un possibile trauma o di una possibile natura degenerativa e che cosa c'è cosa cosa sceglie l'ortopedico quale qual è la tecnica che sceglie l'ortopedico cioè se microfratturare impiantare controcidi quali sono le scelte che fa in base a cosa soprattutto ottima domanda anche questa adesso se magari giandomenico mette le tre diapositive la cartilagine dicevo prima è la struttura sulla quale noi contiamo di più ed è quella che fa differenziare un articolazione normale da un articolazione artrosica ed è quella che ci permette di giocare a calcio quindi fare un gesto atletico di giocare di sciare è quella che in sostanza permettere all'articolazione di essere un articolazione cioè di potersi muovere ed essere stabile questo sia solo la carta grazie alla cartilagine per salvarla la natura ha messo i menischi i legamenti ma è la cartilagine l'ultimo scopo quindi salviamo la cartilagine vedete abbastanza complessa è una struttura ialina come si dice che per me che ed è molto specializzata riveste l'articolazione e è una consistenza quando è sana duro elastica che permette quindi di assorbire gli urti è bianca questo ci deve far capire tutte le strutture bianche come la cornea e i tendini hanno una vascularizzazione estremamente ridotta quindi guariscono con difficoltà quello che guarisce bene è l'osso sottostante ma la cartilagine non essendo vascularizzata si nutre per imbibizione dal liquido articolare ha difficoltà a guarire quindi noi quando troviamo delle lesioni traumatiche anche qui dobbiamo distinguere la lesione traumatica dalla lesione degenerativa la lesione degenerativa dell'anziano l'artrosi assolutamente noi possiamo trattarla soltanto con dei palliativi per ridurre il dolore oppure con la protesi mentre invece una lesione traumatica viene dopo un trauma o avviene perché ad esempio c'è stata una rotazione o c'è stato un qualcosa che ha usurato questa articolazione noi possiamo trattarla in che modo uno dei gesti più semplici ma ancora attuale è quello di fare delle perforazioni cioè un po quello che fa il giardiniere quando ha una problematica nel giardino fa dei carotaggi per far ricrescere un nuovo tessuto e noi facciamo esattamente la stessa cosa sfruttando la capacità che ha l'osso subcontrale con le cellule staminali di rigenerare un tessuto che è simile anche se non perfettamente identico alla cartilagine queste sono le famose perforazioni altra cosa che possiamo fare è quello che fa sempre il giardiniere cioè fa una carota prende un pezzo d'erba in una zona dove magari non serve perché c'è un vaso e lo mette nella zona dove manca quindi fa un patch e noi facciamo questi che vengono chiamati trapianti trasferimenti osteocondrali quando questo non è possibile le lesioni sono importanti ci viene incontro l'ingegneria la bioingegneria che ha ricostruito degli scheffo cioè un'impalcatura quindi non vitale a cellulare quindi senza cellule ma che mima esattamente quella che è l'impalcatura dell'osso e della cartilagine in particolare della mimando anche quella che è la zona di passaggio tra la cartilagine e l'osso che è la zona più delicata questi sono i cosiddetti patch e cosiddetti trapianti di cartilagine e cosiddetti scheffo qui vedete un esempio reale di che cos'è uno scheffo vedete viene fatto rotondo vedete l'azione importante oggi noi sappiamo che lo scheffo si riabita cioè questo scheffo viene riabitato da cellule provenienti dal sangue dall'osso sottostante ma noi possiamo fare di più possiamo accelerare quello che è il processo di riabitazione utilizzando quelle famose cellule staminali e oggi vedete nella diapositiva di testa si vede una siringa gialla quello è del tessuto adiposo che ho prelevato dalla dall'addome ed è un tessuto estremamente ricco di cellule staminali e di fattori di crescita che accelera quelli che sono nei processi di guarigione quindi direi che questi sostanzialmente sono le metodiche oggi in maniera abbastanza semplice a disposizione anche qui ritorniamo alla riabilitazione perché se c'è stato un gesto sulla cartilagine dobbiamo rispettare alcuni protocolli il movimento è molto utile tenete presente che la cartilagine si usa in usere con il liquido all'interno del ginocchio quindi movimento si carico no nella prima fase ma anche qui il carico dipende dove abbiamo fatto il patch perché se noi abbiamo fatto un patch in una zona di carico a 30 gradi e questo lo può dire assolutamente il chirurgo dobbiamo tenere ridotto il carico in quel range articolare pensate la differenza che ci possa essere tra una una cartilagine della femore rotulia e una cartilagine del femore posteriore completamente diverso quindi il carico va rispettato bisogna conoscere l'anatomia così come bisogna conoscere che che tipo di intervento è stato fatto perché sono state fatte solo delle perforazioni all'interno di un'area di un centimetro quadrato dopo tre settimane il paziente può fare tutto e recupero e piano piano recuperare il movimento e l'articolarità e la muscolatura se è stata fatta uno scherzo come quello che avete visto quindi di tre centimetri e lì bisogna aspettare almeno due tre mesi quindi prof i tempi di attecchimento dello scaffold in genere in che di che tempistiche parliamo cioè quando maturano queste quando vengono assorbite diciamo dal dal corpo e diventano cartilagine allora diciamo che ci vuole un anno però non è che noi dobbiamo aspettare un anno per farla diventare cartilagine anzi diciamo che tre mesi è il tempo di in cui dobbiamo rispettare il carico dobbiamo rispettare la flessione ma non deve stare fermo il paziente anzi noi lo muoviamo immediatamente qui il kinetec è più importante che nel crociato proprio per nutrire la cartilagine e il carico dopo il terzo mese è fondamentale per stimolare questa trasformazione dello scherzo in un tessuto naturale così come è importante lo stimolo neurofisiologico quindi la proprio scettiva che è alla base di tutta la riabilitazione del ginocchio e voi lo sapete meglio di me nella cartilagine lo è ancora di più quindi noi sappiamo che questa cartilagine sarà matura al 100% dopo un anno però nello stesso tempo parliamo del grande scaffold però nello stesso tempo diciamo che il paziente dopo sei mesi può riprendere una sua attività d'altro canto non vi pensate che il crociato prima di un anno sia maturo al 100% però nonostante questo noi lo facciamo giocare dopo sei mesi ok non so se sono stato chiaro sì ecco poi a ricordo di questa cosa poi prof magari vediamo subito sul crociato oppure perché ve lo faccio una cosa vi faccio rapidamente sul crociato eh il crociato è un po per ripetere le stesse cose io eh tutti parlano di crociato per cui eh eh soltanto su pochi aspetti perché ritengo che eh sia decisamente più importante come abbiamo dimostrato questa sera la le strutture di vino al crociato non a caso quando noi facciamo il crociato facciamo sempre crociato e qualcos'altro è raro che ci sia solo una resina del crociato il crociato è un legamento che adesso se possiamo farlo vedere vedete la vascularizzazione del crociato il crociato anteriore questo è un lo stesso preparato del menisco ha una vascularizzazione che è abbastanza terminale il che significa che si riesce a riparare con difficoltà e fino a ci abbiamo provato a ripararlo in tanti modi all'inizio di questa chirurgia eh intorno agli anni sessanta agli anni settanta con grossi fallimenti perché lo facevamo a cielo aperto poi abbiamo abbiamo passato un periodo in cui assolutamente non l'abbiamo più strutturato e dicevamo no non si può strutturare oggi ci stiamo ripensando ma ci stiamo ripensando solo alcune categorie quindi soggetti molto giovani io adesso negli adolescenti quando si distacca dalla parte superiore eh si è visto che se opportunamente riattaccato al femore ha una capacità di guarigione però sono casi estremi la stragrande maggioranza dei legamenti crociati rotti non guarisce quindi noi dobbiamo fare non possiamo fare quello che facciamo nel menisco ma dobbiamo prendere un trabianto un sostituto quindi così come facciamo quando facciamo il trabianto del menisco quindi una delle principali delle prime scelte importanti che voi vi ritroverete ad affrontare il paziente è stato operato ma come gli hanno fatto il come l'hanno fatto quali sono le possibilità le scelte che ha il chirurgo sono quelle che vedete quindi però tutti conoscono i flessori il semitendinoso e gracile tutti conoscono il rotulio anzi tutti conoscono il rotulio perché sicuramente quello che viene utilizzato di più e veniva utilizzato di più anche se adesso è stato come vedete dal grafico sostituito al semitendinoso qualcuno ha conosciuto sfortunatamente gli artificiali perché la maggior parte andava male qualcuno vede qualche allograft anche se sempre di meno pochi per esempio conoscono il tendine quadriccipitale che è uno di quelli che io ho fatto di più in passato ma esiste e quindi bisogna sapere questa cosa adesso sto un po' ritornando perché alcuni calciatori operati all'estero sono stati operati di tendine quadriccipitale quindi queste sono le possibilità ognuna di queste però è contro come tutte le cose nella vita quindi il semitendinoso e gracile sono i tendini flessori è più semplice da riabilitare perché non viene toccato l'apparato estensore da un pochino di problematiche nella fase iniziale di dolore nella parte posteriore riduce quella che è un pochino quella che è la forza dei fressori e bisogna stare attenti nella riabilitazione soprattutto a strecciare nei primi due mesi perché spesso nel tentativo che come vedremo è l'obiettivo principale della ricostruzione del crociato di strecciare il ginocchio si va a lacerare quella che è la cicatrice che si forma dal prelievo del semitendinoso e gracile e si possono formare degli ematomi o riattivare una situazione di infiammazione la caratteristica peggiore che hanno questi tendini è che non hanno una bratta ossea quindi quello che si va a riattaccare è tendine dentro l'osso quindi c'è un'interfaccia come la chiamiamo noi tendine osso che ha dei tempi di maturazione sull'interfaccia non del tendine inferiore rispetto al tendine rotulio quindi è un pochino più lento ad integrarsi ricordatevi questo punto il tendine rotulio è un tendine molto conosciuto che ha delle caratteristiche molto buone da un punto di vista delle estremità a delle bellissime estremità perché sono fatte d'osso sono due bratte osse che vengono messe all'interno dei tunnel e quindi permettono una integrazione osso osso che è sicuramente più rapida di quella tendine osso però la parte interna la parte reale del tendine è una fettuccia quindi ha una sezione rettangolare che è sicuramente inferiore rispetto a quello del semi tendine osso e gracile quadrupolgato e a quello del rotulio e soprattutto bisogna stare attenti nella riabilitazione perché nella parte anteriore nei tempi in cui si utilizzava molto ad esempio l'isocinetica leg extension eccetera però è molto stabile e questa stabilità a volte si paga perché tende ad essere un pochino più rigido dell'altro quello che a mio avviso il compromesso ideale è il tendine quadricipitale il tendine quadricipitale è un tendine eccezionale che ha delle caratteristiche di cross session cioè di la sezione è circolare è decisamente più simile a quella del crociato anteriore quindi come tendine è sicuramente il migliore d'altro canto il tendine più grosso che abbiamo nel corpo umano quello che ha di difetto è che si può prendere solo una una delle due pasticche quindi una parte del tunnel una zona del tunnel o quella tibiale o quella femorale scelta del chirurgo io preferisco metterlo in quella tibiale che è quella un pochino più critiche hanno la possibilità di avere osso osso le altre meno è un pochino doloroso nella prima fase però dopo la riabilitazione può essere paragonata tranquillamente a quella del tendine rotulio perché andiamo a lavorare sulla paragonata estensore meno problematiche di tendine rotule ovviamente qualche dolore sul quadricipitale bisogna in questi casi rispettare la il discorso di eliminare la leg extension per i primi due mesi l'allograft lo cito soltanto è come il trapianto di menisco è un un materiale inerte non vascolarizzato che ha grosse difficoltà o perlomeno ha delle difficoltà ad integrarsi e quindi ci vuole molto più tempo può essere indicato in alcuni casi di revisione o multilegamentose di lesioni multilegamentose in cui abbiamo necessità di avere a disposizione molti tendini e oppure in alcuni casi in cui abbiamo diciamo tempo più tempo perché ad esempio un sessantenne che ha necessità di ritornare a sciare ma non ha grossa fretta può permettersi e non vuole invece fare una riabilitazione per i primi tre mesi impegnativa perché indubbiamente la riabilitazione dell'allograft è meno impegnativa degli altri però è più lenta la ripresa ma ricordatevi questa immagine che secondo me è fondamentale anche per voi l'intervento nella nell'intervento per la riuscita dell'intervento non conta il legamento ma quello che conta è come lo abbiamo posizionato quindi location 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 dicono gli americani come quando te compri un appartamento una casa la cosa più importante è la location cioè dove vengono posizionati i tunnel quindi bisogna rispettare l'anatomia perfetto però però voglio chiedere una cosa speranza speranza di ricrescita dei prelievi cosa cosa sappiamo riguardo la possibilità di di riabitazione di riabitazione no dico di proprio di di ricrescita dei tendine oppure allora diciamo che questa è una domanda eh eh importante che è stata affrontata nel dieci quindici anni fa in maniera molto seria da alcuni studiosi anche della scuola romana in particolare eh con eh professor mariani quando lavoravo con lui abbiamo studiato la rigenerazione del tendine rotuleo e abbiamo visto che c'è una guarigione quasi sempre completa del tendine ed addirittura qualche chirurgo pensava di riutilizzarlo anche se ho io lo sconsiglio vivamente perché quel rigenerato che si forma quella cicatrizzazione che si forma è una cicatrizzazione che non dà le caratteristiche biomeccaniche di un tendine normale la stessa cosa il semi tendinoso per esempio il gruppo della scuola del professor ferretti hanno studiato con l'ecografia in maniera molto attenta loro facevano più e fanno più semi tendinose gracie la rigenerazione tessutale e hanno dimostrato e hanno visto come i tendini si riformano si riforma un tessuto tendineo che a volte è simil tendineo ma la funzione di questo tendine viene repristinata anche se a volte ci vuole più di un anno in maniera pressoché completa e questo è dimostrato dagli studi di forza probabilmente perché poi le fibre muscolare si vanno ad inserire sul sartorio o sul sei membranoso e quindi viene ripristinata quella che è la funzione flessoria mediale quindi sì il quadricipitale ve lo posso dire in maniera diretta perché ho fatto più di mille casi di ricostruzione del quadricipitale anche qui secondo me è quello poi guarisce un pochino meglio perché ha una struttura a triplice anzi quattro strati per questo diamo quadricipitale che fa sì che quando noi andiamo a prelevare un il tendine quadricipitale si conservi sempre uno strato profondo che permette una rigenerazione abbastanza rapida ok ok un'altra domanda invece volevo fare per ricollegarmi poi al discorso che abbiamo fatto prima su tra la cartilagine e il crociato che sono i tempi poi di ritorno allo sport siccome ultimamente sono state molte diciamo molti dibattiti per quelli che sono i tempi di retro to sport e poi tra l'altro poco tempo fa è uscito uno studio sul British Journal of Sports Medicine in cui si osservava che negli atleti che effettuavano sport ad alto rischio quindi con cambi di direzione rotazioni rientrare dal nono mese in poi riduceva del 50% il rischio di rinfortunio ogni mese che si aspettava ora una cosa è l'ideale una cosa poi è ovviamente irreale in cui la squadra preme poi per far rientrare l'atleta e cioè è una c'è esiste secondo lei una via di mezzo tra magari rientro precoce come è stato in alcuni atleti che poi hanno fatto il rinfortunio o aspettare così tanto cioè aspettare un anno e più assolutamente sì va qui va assolutamente individualizzato il recupero e soprattutto il retard to play nel senso che ci sono degli atleti che sono delle macchine fantastiche per tanti motivi non non escluderei anche la genetica ma soprattutto l'allenamento che possono recuperare in maniera decisamente più rapida rispetto ad altri su questo ne sono più che convinto il problema di base è che da un punto di vista biologico noi sappiamo che questo tendine prima di sei mesi non ha una maturità biologica tale da so da resistere a delle sollecitazioni massimali e poi è ovvio che più andiamo verso l'anno è maggiore la tenuta ma non è questo il punto il punto è come noi come l'atleta come il paziente riesce a sviluppare quelle che sono gli elementi che proteggono di protezione di questo legamento perché lì il problema quello che si rompe spesso si rompe perché non ancora sviluppato queste elementi di protezione e gli elementi di protezione sono non solo muscolare noi pensiamo tutti al muscolo il bel muscolo grosso no sono soprattutto elementi di biomeccanica e di neurologia un recupero proprio scettivo in un valido ci sono dei giocatori che giocano senza crociato perché hanno senza non ce l'hanno il crociato e giocano senza problema questo ormai è indiscusso magari possono rovinare un po' la cartilagine a fine carriera ma riescono a sopperire perché hanno una buona proprio scettività quindi proteggono il ginocchio da quel movimento classico che quello che ci distrugge che è il movimento del cedimento quindi noi lì dobbiamo andare a combattere la nostra battaglia il problema reale è che ad oggi ci stiamo studiando al gemelli noi stiamo facendo degli studi con la molto sofisticati con la gait analysis mentre noi abbiamo un qualcosa di quantificabile possiamo quantificare il recupero muscolare possiamo fare una bella risonanza di un bel legamento possiamo fare il salto abbiamo pochi elementi che ci dicono sì questo è un ginocchio maturo che ha ben recuperato da un punto di vista proprio scettivo quello meno è chiaro è chiaro anche perché poi i compensi che si mettono in atto dopo una perdita le afferenze dopo l'intervento non non vengono ricostruite cioè ci vuole tempo affinché si sviluppi quel sistema di informazioni che poi permette alla data di muoversi liberamente senza utilizzare compensi utilizzare strategie troppo legate a alla viso ma ecco chiaro quindi assolutamente e quindi già non so io pure perché tu roberto e gian domenico mi avete più volte anche in altre occasioni sollecitato e un po tutti i fisioterapisti lo fanno a quello che è infatti avevo messo una piccola chicca alla fine perché quello che è un po le difficoltà maggiori dopo la ricostruzione del crociato in genere il ginocchio cioè l'estensione perché ci vi dicono a non estende a anche perché poi sappiamo che un ginocchio che non flette o negli ultimi gradi non dà nessun problema un ginocchio che non estende di 5 10 gradi il paziente zoppica ed ha difficoltà quindi il recupero dell'estensione è quello su cui ci battiamo e allora vi volevo far vedere voi che siete molto attenti alla letteratura vi consiglio di andarvi a prendere c'è anche un video non so se già lo conoscete penso di sì ed è assolutamente quattro semplici cose per cercare nell'immediato perché poi una volta che si vizia anche qui io ho avuto dei pazienti che per una serie di motivi durante questo covid hanno fatto una riabilitazione non attenta e quindi automaticamente qualcuno di questi ha dei deficit di articolari questo va fatto subito dall'inizio perché spesso soprattutto se usano usa i flessori sono il deficit di estensione non è perché c'è un problema sul impingemente del legamento non è perché c'è un ciclope ma è perché c'è una contrattura questa contrattura però alla lunga può essere questa stessa causa di ciclope se non la se non siamo in grado nel giro di tre settimane di riattivare quindi tre settimane comunque un tempo abbastanza in cui noi possiamo decidere dopo di chiamare l'ortopedico e direttore purtroppo mancano cinque gradi quello che si è visto l'avete letto da questo che dopo le tre settimane c'è un maggior rischio di sviluppo del ciclope diciamo che è chiaro che fino al secondo terzo mese dei deficit di articolari ci possono essere ma voi vi accorgerete che se fate attenzione la prima fase tutti pensano subito al muscolo nel primo mese va contro la guarigione del crociato quindi non ci pensate per niente al muscolo il primo mese il primo mese bisogna concentrarsi su far passare il dolore quindi ridurre le contratture recuperare il range of motion e soprattutto recuperare l'estensione questo è l'obiettivo principale del primo mese anche perché se recuperiamo l'estensione poi è più facile non c'è nessun problema allora se posso le farei una domanda assolutamente sì da un punto di vista clinico su una lesione combinata di lca e comparto mediale quindi le cm può un innesto di semitendine gracile avere degli outcome peggiori in termini di stabilità mediale rispetto ad un innesto rotulio se si prendono in considerazione appunto le inserzioni no ti verrebbe da dire di sì no perché mediale no assolutamente no perché il semitendinoso e gracile agiscono non come stabilizzatori del mediali ma come intra rotatori quindi sul sul collaterale non da nessuna nessun tipo di sulla stabilità postero mediale che quella legata al collaterale perché il legamento collaterale sta è situato postero medialmente il tendine che invece corrisponde e quindi a un'azione agonista con quella che è la stabilizzazione è il semi membranoso che è quello profondo ma semitendinoso e gracile assolutamente no quindi è una scelta che può essere fatta senza nessun tipo di problema sul collaterale ci sarebbe da fare un'altra trasmissione perché se non toccarlo però diciamo per rispondere alla tua domanda direi assolutamente no c'è una scelta che può essere fatta tranquillamente da indipendente dalla regione collaterale ok c'è un'altra domanda interessante vista l'importanza del recupero dell'estensione nella riabilitazione del ginocchio e della corretta diambulazione in una ricostruzione del crociato più struttura miniscale come ci consiglia di comportarci recupero aggressivo cauto accomodante quali sono le sue linee guida allora range of motion identiche per quanto riguarda crociato e menisco cercando di fare attenzione magari limitare di più nelle prime tre settimane considerate le tre settimane sono un po il termine ogni tessuto guarisce in tre settimane se una cicatrice si deve formare si forma in tre settimane pensate a quando vi fate il tagliettino sul dito e vi mettono due puntini perché anche lì dura tre settimane poi dopo c'è una fase di maturazione in queste tre settimane rispetto magari della flessione se è stata fatta una sutura miniscale nella parte posteriore e il carico il carico sempre ridotto quindi con dei bastoni canadesi per le per le prime tre settimane questo è quello che io cambio ma il resto è esattamente identico sia se faccio associo una sutura miniscale il che avviene ormai oltre 50 per cento dei casi sia se associo un piccolo gesto sulla cartilaggine ok perfetto sempre per quanto riguarda anche un attimo il post intervento c'è anche un'altra un'altra domanda come si deve gestire un quadro di sinovite ed edema midollare nel post intervento soprattutto per quanto riguarda carico e mobilizzazione all'a sinovite è un processo infiammatorio un po generico perché significa tutto e niente quindi una sinovite per esempio dopo un atto chirurgico è naturale c'è quasi sempre e quello che noi dobbiamo andare a vedere per la membrana sinoviale che la membrana sinoviale risponde a degli insulti interni per cui in realtà questa sinovite spesso è una risposta se troviamo del liquido quindi un idrarto dopo il secondo terzo mese io sono preoccupato non tanto del crociato quindi questa risposta della membrana sinoviale ma della eventuale sutura miniscale o della parte invece di tipo cartilagineo diverso è l'edema midollare perché l'edema midollare è una reazione dell'osso ora nella prima fase la risonanza dopo un trauma l'edema midollare è normale perché è traumatico quindi il bombruis cosiddetto che alcuni radiologi definiscono frattura non è altro che il segno radiografico di imaging il segno di risonanza del del cedimento cioè del gerc di cui di quello che è stato il cedimento che ha rotto il legamento crociato cioè la contusione ossea e non mi preoccupo assolutamente quello che mi preoccupa quando vediamo quelle zone algo distrofiche o che possono arrivare anche a un edema ossero quello che viene definito bonedema sia perché mi preoccupano per due motivi sia perché sono decisamente sintomatiche e quindi il paziente ha dolore e sia perché tutte le volte che c'è dolore è un segnale per il corpo e quindi se noi non lo rispettiamo possiamo avere dei crolli e andare andare incontro a quella che è la necrosi vera e propria cioè la morte cellulare in una piccola zona come se fosse si arrivano a dei punti soprattutto nei soggetti che hanno più di cinque anni in cui c'è un vero e proprio infarto l'infarto non avviene solo nel cuore ma può avvenire anche nell'osso quindi in particolare nel ginocchio questa osteonecrosi che poi con difficoltà può da sola riparare quindi dobbiamo in questo caso rispettare e non far caricare il paziente ad esempio oggi c'è un'evidenza scientifica molto seria sull'uso degli campi magnetici pulsati che possono stimolare decisamente una rivascolarizzazione alcuni farmaci come di fosfonati e vitamina d che possono aiutare quindi in questi casi movimento ma non carico ok roberto tu volevi fare qualche altra domanda tutti i dubbi sono stati perfettamente chiariti grazie direi che è stata una diretta molto interessante siamo andati anche molto oltre ma è bene così perché comunque ci sono state tante altre domande infatti quello che io dico anche a chi ci segue è di comunque continuare se avete qualche domanda a commentare il post noi comunque raccoglieremo le domande e magari le sottolineiamo al dottore esatto e magari su quello ci costruiremo un post anche dedicato in quanto sono comunque tematiche molto molto interessanti e su cui anche molte volte anche noi fisioterapisti purtroppo facciamo anche un po di confusione quindi secondo me vorrei riuscire a sanare tutti i dubbi in questa in questa materia è una cosa davvero davvero molto interessante e io ringrazierei tantissimo il ringraziare davvero molto dottore perché è stato veramente esplicativo ha risposto a tutto quello che è stato detto è stato anche molto disponibile vorrei ringraziare anche roberto che attraverso anche il suo gruppo ha potuto portare anche il dottore qui a parlare con noi di fisio science e per concludere vorrei anche ringraziare tutti quelli che ci hanno che ci hanno seguito se volete terminare la diretta con qualcosa lascio lascio voi la parola prego dottore ma io vi io ringrazio voi e sono convinto che questo quello che sta accadendo in questo periodo di pandemia cioè incrementare l'utilizzo del dei sistemi multimediali per avere un dei confronti interessanti così come quello di stasera sarà il futuro e quindi benvengano io sono disponibile e quindi anche se in un futuro per qualsiasi cosa anche un dibattito magari potrebbe essere interessante in un futuro fare un dibattito con più chirurghi che magari si confrontano quindi avere l'approccio un approccio anche di tipo quello che avviene un po oggi in televisione uno in centro e gli altri a distanza assolutamente perché perché ancora non è che ancora non mi conosce approfonditamente perché roberto che mi conosce bene ho partito benissimo che quando mi ha dato piena disponibilità allora io me lo sono preso ce lo siamo presi e gli abbiamo fatto fare davvero tante cose quindi se lei se lei è disponibile da questo punto di vista guardi io ti do anche un'altra dritta visto che siete così avanti non escludo che magari se uno di voi viene oggi basta una gopro in sala operatoria possiamo fare una diretta in sala operatoria assolutamente meraviglioso questo che non ha ancora fatto nessuno direi che è una chicca finale molto interessante roberto sarà diciamo l'argomento della telefonata con di consuetudine di domani mattina è assolutamente sì grazie grazie mille per la disponibilità a tutti buona serata buona serata grazie 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 grazie